Non ci sarà il processo a Matteo Salvini. Per il ministro dell'Interno, il Tribunale dei Ministri di Catania aveva chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere con l'ipotesi di reato di sequestro di persona per non aver consentito subito lo sbarco di 177 migranti della nave di Ciotti attraccata al porto. E Salvini, dal Senato, ringrazia i 5 Stelle per aver condiviso, con un'anime determinazione, le politiche sulla sicurezza e sui migranti. E ringrazio per questo i colleghi dei 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente. Contro il processo si sono espressi i senatori di Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia, a favore i senatori di PD e l'EU. I senatori delle autonomie hanno votato in ordine sparso. Si chiude così un caso spinoso. È infatti la prima volta che viene chiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti di un ministro per una ipotesi di reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni. Il voto elettronico palese espresso stamani in aula a Palazzo Madama ha dato un risultato incontrovertibile, con 232 senatori che hanno votato per negare l'autorizzazione a procedere, a fronte di un quorum richiesto di 161. Il caso Salvini ha agitato non poco le acque nel Movimento 5 Stelle, che per difendere l'alleato di governo ha dovuto votare contro l'autorizzazione a procedere, contraddicendo l'atteggiamento fino ad ora proclamato con forza di fronte al suo elettorato. Per loro dichiarazione in dissenso al gruppo, le grilline Paola Nunes ed Elena Fattori hanno votato a favore del processo e per questo saranno sottoposte al giudizio dei probi viri.